buongiorno a tutti gli amici di ok tons e benvenuti a una nuova puntata del vostro tg tecnologico di tons hardware ok radio io sono Robert Tanto e saluto in regia il buon DJ Stay, ciao, sul quale stavo dissertando fino a pochi istanti fa su una canzone un po' diciamo dance e gli ho detto ovviamente le mie serate mettiamo cose un po' più cattive fra l'altro ne approfitto per ricordare che sabato saremo nuovamente al bar di busto le monelle per cui volete venirci a trovare solo bombe ovviamente hashtag solo bombe un po' di un po' di tecnica un po' di elettronica su tanto per fare qualcosa di diverso dal solito e ne approfitto subito per rispondere al nostro lettore anzi ascoltatore spettatore perché i lettori sono quelli che ci leggono su tons hardware giustamente qua invece ci guardano guardano i video su youtube e commentano e scrivono buongiorno tons hardware buongiorno sono il signor tons hardware va bene sono un giovane youtuber vorrei chiedere come faccio ad entrare nella community di tons hardware grazie dark inox bene per entrare nella community di tons hardware bisogna inviare un assegno al sottoscritto di svariate migliaia di euro no ovviamente si scherza ma abbiamo un modulo per compilato con che con la richiesta di informazioni sul vostro canale chiaramente quindi ci dovete dare tutti i dettagli relativi a numero di iscritti tipologia di del canale nome link ovviamente per dare un'occhiata e grazie a questo modulo appunto possiamo poi avvalutare la vostra richiesta di adesione al nostro network che ovviamente conta su tantissimi youtuber noti e meno noti chiaramente vabbè ci sono quelli da mezzo milione di iscritti in su ma anche quelli più alle prime armi chiamo come me ad esempio che io sto veleggiando sopra verso i cento iscritti ma a cento faremo un grande grande festa tra l'altro ti stiamo avvicinando anche la centesima puntata di ok toms lo sai dj st ah si centesima puntata quante ne mancano venerdì facciamo la centesima puntata ma facciamo una festa infatti hanno commentato sempre su youtube dicendo ma farete qualcosa di speciale si porteremo le torte e i pasticcini quindi se volete venire e bombe solo bombe ovviamente che non non bombe non bombe a mano per far la guerra ma bombe ecco faremo la puntata con bombe di musica elettronica per far scappare tutti quelli di tecno city che ospito i nostri uffici e adesso vediamo al dunque di questa puntata che ci stiamo già dilungando tanto di che cosa vi parlo oggi vi parlo di una notizia di nintendo che ha fatto un annuncio shock ha deciso di scendere in campo ma non nel senso politico ma nel mondo dei videogiochi mobile quindi dopo essersi estragnata per anni da smartphone e tablet adesso collaborerà con un'azienda giapponese per creare giochi mobile e poi che altro vi parlerò di una stampante 3d creata con una pistola per colla a caldo e i pezzi di lego davvero un progetto che potete replicare anche a casa vostra e vi parleremo della nostra recensione dello Zenbook UX305 firmata dalla mia collega Elena insieme ai colleghi di laptop mag e direi di partire proprio da questa prova d'uso di questi di questo Zenbook UX305 uno dei migliori ecco potete vedere anche un'immagine o qualche immagine abbiamo diverse immagini da farvi vedere è uno dei migliori ultrabook in circolazione semplicemente abbiamo testato a un prezzo interessante leggero sottile comodo da usare davvero tanti pregi per questo per questo ultrabook che ricordiamo è un termine che identifica quella tipologia di computer portatili molto molto sottili e molto ultra portatili per così dire e la mia collega Elena dice che il peso non è da record se proprio vogliamo trovare peso e pelo nell'uovo perché sia il macbook da 12 pollici quello nuovo presentato da apple sia il nuovo xps 13 di dell lo dimostrano però in questo caso si parla di 1,17 kg che comunque è veramente molto poco cioè un altro diciamo difetto è che purtroppo un materiale che ecco qua potete vedere lo spessore tutte le con la connettività tutte le varie porte il materiale purtroppo lascia impresse le dita quindi se lo smaneggiate ok questo è un piccolo difetto l'alluminio che se lo si tocca rimangono le impronte digitali purtroppo però tutto il resto è davvero di spessore ci sono tasti ampi 16 mm ben spaziati 3 mm e con una corsa morbida nel senso che è facile digitare e comodo ecco qua invece abbiamo visto anche brevemente un piccolo pezzo del prossimo articolo però vabbè ritorniamo appunto sull'ultrabook di asus davvero che ha davvero tanti tanti assi nella manica tante opzioni di connettività il touchpad eccellente la superficie reattiva quindi è molto facile fare selezioni o tracciare le gesture multi touch magari con due con uno più ditti uno più dita davvero dopo questa posso chiudere tutto bene sono un refuso ho scritto male qua volete se volete controllare bene andiamo avanti andiamo avanti bene e che altro display molto buono quello che abbiamo provato aveva una risoluzione di 3200 per 1800 pixel e una luminosità molto alta di 316 candele tutto questo a un prezzo inferiore ai 1000 euro cioè ci sono modelli intorno ai 870 euro secondo della configurazione scelta si tratta di diverse centinaia di euro in meno rispetto alla soluzione di apple e anche al dell xps 13 che arriva fino a un migliaio di euro per cui se siete in cerca di un computer ultra portatile davvero questo potrebbe essere una buona scelta ovviamente se volete approfondire vi rimando alla recensione completa su tons hardware con tutti i test su autonomia prestazioni e comfort e la prova ad uso della nostra collega elena andiamo avanti adesso ritorniamo al mondo dei videogiochi un mondo a mechia molto caro oggi c'è un mondo a me chiaro oggi veramente non ci sono quelle parole ebbene vi parlo di nintendo perché ha deciso di sbarcare nel mondo dei giochi mobile come saprete nintendo è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti dei suoi brand quindi ai suoi giochi potevano uscire soltanto su console firmate dalla stessa azienda quindi o su console portatile o fisse di nintendo bene adesso invece ha deciso di cambiare completamente strategia e ha stretto una partnership con dena colosso giapponese proprietario di una delle piattaforme gaming più popolari del sollevante grazie a questa collaborazione nintendo riuscirà a creare giochi indirizzati in modo specifico per smartphone e tablet proprio ottimizzati per questo genere di dispositivi e quindi si parla di titoli originali non di conversione di giochi già esistenti come per esempio che ne so immaginate un mario a caso uno zelda o donkey kong no non ci saranno le versioni di questi giochi per 3ds o wii u o wii addirittura modificate per adattarsi ai tablet ma saranno proprio nuovi giochi come spiegano in un comunicato testuali parole per assicurare la qualità dell'esperienza di gioco che i clienti si aspettano da questa alleanza saranno creati soltanto nuovi titoli originali ottimizzati per smart device vale a dire tablet smartphone e non porting o conversioni di titoli creati in modo specifico per wii u o nintendo 3ds e satoru iwata il boss di nintendo ha inoltre approfittato di questo annuncio shock perché davvero si tratta di un cambiamento epocale per la strategia di nintendo approfittato appunto di questo annuncio per svelare anche un nuovo una nuova bomba per usare una parola noi con noi cara mi credo di gesti sarà appunto il nome della prossima console di nintendo si chiamerà nx ecco ve lo diciamo per gli amici di ok tom se potrete fare fighi con i vostri amici o ma sapete che nintendo sta già pensando a nuova consola si come si chiama si chiama nx bene questo è il nome del progetto ovviamente non si sa ancora nulla cioè per cui non andate troppo in lab a fare fighi con gli amici potete dirgli solo il nome perché non si sa per ora se sarà un dispositivo casalingo una console portatile l'unica cosa sicura è che ne sapremo di più l'anno prossimo per cui bisognerà aspettare fino al 2016 per sapere appunto quale sarà questo come sarà questo nuovo dispositivo di nintendo per ora l'unica cosa sicura anche la strategia mobile è che nintendo vuole proseguire rimanendo anche sul campo delle console chiaramente e la conferma di questo nuovo nintendo nx sembra appunto dare un ulteriore risalto a questa strategia ma dal tempo stesso l'azienda si accorta che il business dei giochi mobile è troppo grosso per non essere considerato dopo tutto si parla di un giro d'affari che di centinaia di migliaia di centinaia di milioni di euro non migliaia migliaia sarebbe troppo poco centinaia di milioni di euro per appunto questi giochi mobile che davvero stanno facendo il botto da diversi anni grazie al successo di smartphone e tablet che ormai sono entrati nella vita di tutti e anche sonia ha cercato di approfittarsi di buttarsi in questo mondo dei giochi mobile con la piattaforma playstation mobile senza tuttavia ottenere successo sperato e appunto di pochi giorni fa la notizia che sonia avrà intenzione di chiudere completamente il servizio il 10 settembre microsoft invece sembra alla porta ha fatto qualche timido passo diciamo in questo mondo dei giochi per smartphone e tablet ma senza fondare il colpo magari questa nuova strategia di nintendo spingerà la concorrenza a reagire di conseguenza siamo molto curiosi di vedere appunto come si evolverà la situazione per il mondo dei videogiochi grazie a questa novità firmata nintendo andiamo avanti con l'ultima notizia del giorno mio caro digest e lasciamo perdere i videogiochi per adentrarci nel mondo della stampa 3d un settore segmento che abbiamo già trattato diverse volte qui ok toms soprattutto quando era il periodo della maker fair non so se ti ricordi che abbiamo fatto vedere diversi video in diretta da roma con le light modifera veramente stampa 3d e droni perché erano queste le innovazioni più forti del mondo della tecnologia sono avvenute in questi settori e grazie a questo lavoro di uno studente di design industriale tale tale vimal patel si può creare o gli appassionati possono realizzare in casa la propria stampante 3d partendo da componenti semplicissimi come la classica pistola per colla a caldo quella che magari per fare le decorazioni natalizie magari le vostre mamme ne avranno una in casa poi vostre partner eccola qua vedete quella classica pistola però con una piccola modifica cos'è quella che vedete sulla destra bene è un accessorio realizzato con i lego per dare un nuovo scopo questa stampante cioè non sarebbe nemmeno corretto definire la stampante 3d perché è come se fosse un 3d 3 doodler una stampante 3d dell'omonima azienda che assomiglia a una penna e permette di disegnare in 3d ecco anche questo la stessa cosa perché la stampante 3d chiaramente ha bisogno di un telaio per fare forme si appoggia appunto a due asse quindi l'asse orizzontale verticale asse x asse y volevo dire in modo da creare forme complesse grazie a questo accessorio invece con i lego che permette appunto un estrusore di fatto di lego permette di far passare un materiale all'interno del beccuccio della pistola per colla a caldo e di disegnare a mano libera infatti poco fa dicevo di 3d 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 una stampante 3d a forma di penna perché il principio è quello soltanto che ha applicato a una stampa una pistola per colla a caldo e con dei pezzi di lego che ognuno può realizzare in casa infatti se cliccate sulla notizia di tons hardware c'è un collegamento per scaricare il file del progetto e divertirsi con il lego ovviamente a patto di avere anche il materiale necessario quindi vi servirà la pistola per colla a caldo vi servirà dei pezzi i giusti pezzi di lego e ovviamente un materiale da farci passare dentro un filamento 3d biodegradabile che è stato quello che ha usato il nostro appassionato di design su anzi studente di design industriale e se siete interessati appunto potete cliccare sulla notizia per scaricare il file del progetto e dentro la notizia ci saranno anche diversi link per darvi qualche consiglio in generale sulla stampante in 3d per esempio c'è mi ricordo la nostra guida per i principianti per chi appunto si avvicina per la prima volta al mondo delle stampanti 3d e vuole muovere i primi passi in questo settore e poi c'è anche il nostro speciale con tanti consigli su accessori scanner 3d materiali e manuali da consultare per cui siamo anzi sai cosa ho scoperto di gesti oggi che guardando la pagina di wikipedia italiana di stampa 3d Tom Sardone è citato come una delle fonti nella voce ricerca hai visto perché delle notizie che abbiamo scritto io insieme ai miei colleghi qualche tempo fa sono servite per ampliare la pagina di wikipedia è un onore per noi chiaramente essere finiti su quelle pagine ma non è la prima volta che ci finiamo chiaramente con tutte le notizie tecnologiche che diamo ogni giorno siamo abbastanza informati su questi argomenti tecnologici soprattutto la stampa 3d ed anche i droni con il nostro direttore pino bruno un esperti di questo di questo settore noi siamo contenti di darvi queste notizie anche a voi che magari per trasmettervi la nostra passione per queste queste novità tecnologiche io ringrazio tutti i nostri spettatori per essere stati qui con me ringrazio te di gesti e soprattutto visto che non sei passato sabato a venirmi non sei venuto a trovarmi alle monelle di buster sizio rinnovo l'appuntamento questo sabato cercherò di esserci bravo anche se in realtà dovrebbe essere una festa privata ma credo che vabbè io sono di gesti con eccezione per di gesti è chiaro poi metti pure i dischi con me dai allora facciamo un back to back to back quindi se volete venirci a trovare siete benvenuti e per oggi è tutto io vi saluto vi auguro una buona giornata ciao